Eccoci qui con gli amici di Accordo, Sarzana, Acoustic Guitar Festival del 2012 e noi siamo nello stand meno acustico del festival perché abbiamo capito che quando tutti vogliono vedere una cosa tu gli ne porti un'altra e quindi a quel punto sono interessatissimi e curiosi. Il Tune Meister che conoscete già nella versione 18W e 5W che avete già visto al Second Hand Guitar e avete visto sui servizi di Accordo è il 36W in arrivo, la testata per giugno, il fratellino maggiore della serie e il combo a partire da settembre. Alle mie spalle l'oggetto più sensazionale dell'anno ovvero il Lucas Nano 300W di potenza, un prodotto che in una stanza così non possiamo mettere neanche al minimo perché vengono tutti gli amici della chitarra acustica e ci dicono adesso spegni tutto, ma che alla prima occasione cercheremo di farvi sentire e vedere in un ambiente idoneo e possibilmente all'aperto dove fa la sua cara figura, all'incirca 600€ al pubblico e anche questo disponibile a fine giugno. Infine, ma conoscete molto bene il prodotto, le chitarre peerless che noi importiamo in Italia dal 2008 nelle versioni semiacustiche, acustiche e tipicamente da jazz che avete conosciuto anche qui durante tutti i Second Hand Guitar organizzati da Accordo, nello specifico suonate dal grandissimo Gigi Cifarelli, nostro endorser. Eccoci qui, quindi in attesa di incontrarci di nuovo, di farvi provare quelli che sono i nostri strumenti e di farvi incontrare la nostra simpatia, la nostra disponibilità e la voglia di raccontarvi cose nuove. Ciao! Ciao!